La Basilica di San Bernardino oggi è vestita a festa per la celebrazione del compatrono della città con la Santa Messa del Cardinale Petrocchi e con l'offerta dell'olio della lampada votiva affilata alla nobile contrada dell'Aquila di Siena. Celebrazioni sotto tono quest'anno, con tante iniziative collaterali annullate per l'incidente dell'asilo. Non si può non pensare a questa tragedia che ha coinvolto la comunità. Infatti nella preghiera dei fedeli si è pregato per il piccolo Tommaso e per tutte le famiglie coinvolte, come afferma padre Daniele Di Sipio, rettore della Basilica. Naturalmente non poteva mancare la celebrazione di un onore del nostro compatrono San Bernardino, ma non possiamo non tenere presente tutto ciò che la comunità cristiana aquilana sta vivendo a motivo di questa tragedia. Allora sì, festeggiare San Bernardino con toni minori, abbiamo eliminato la processione, tutto ciò che era un po' con la musica, la banda, i sbandieratori, proprio come segno di rispetto, ma anche come vicinanza alla famiglia, ma soprattutto come preghiera, perché la cosa più importante in questo momento è affidare al Signore attraverso intercessioni di San Bernardino queste famiglie che vivono un momento così difficile, un dolore umanamente non descrivibile, ma nella fede San Bernardino ci ricorda appunto che nel nome di Gesù troviamo la forza, la speranza e di guardare al risorto, colui che ci dà la forza per vivere nella fede questo momento così particolare. Il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, ha detto che ogni bambino ha il tesoro più prezioso per i suoi genitori e anche per la comunità in cui vive, perciò un bambino che muore o che rimane ferito provoca un dolore universale. La chiesa aquilana innalza preghiere per i bimbi feriti e per le mamme e i papà coinvolti in questo immenso dolore e adesso aspetta a te, piccolo Tommaso, aggiunto, diventare il nostro angioletto custode che veglia su due noi dal paradiso. Sono giorni di lutto all'Aquila, mentre procede l'inchiesta si è stabilito di procedere con l'autopsia e al rilascio del nulla osta si potrà fare il funerale, probabilmente già da domani. In procura questa mattina è stata affidata la perizia tecnica sull'automobile che si è sfrenata. Il geometra Cristiano Ruggeri dovrà stabilire se il freno a mano a pulsante della Passat era stato inserito, perché tra le ipotesi potrebbe esserci anche quella del guasto tecnico. Il mezzo dell'asilo è stato rimosso e tutta l'area è sotto sequestro, ma l'inchiesta si allarga perché c'è un secondo filone che riguarda la sicurezza della scuola. In particolare gli inquirenti dovranno stabilire se la strada in discesa fosse destinata a parcheggio e se il cortile fosse delimitato in maniera sicura, visto che la macchina ha battuto la recensione con tanta facilità.